Ciao a tutti, oggi vedremo come si può tagliare un file musicale, un brano musicale piuttosto lungo usando un programma, un semplice programma free che noi possiamo scaricare direttamente da internet facendo un semplice download. Il programma già scaricato si chiama Audacity e si presenta con questa icona. La musica che io voglio tagliare è una musica anni 80, è un file che dura una mezz'ora da cui voglio soltanto estrapolare una parte, la parte che più mi interessa. Apriamo il file in Audacity, quindi apriamo Audacity e andiamo a file apri da desktop, noi abbiamo il nostro file musicale, musica anni 80, apriamo e aspettiamo che il file musicale sia importato in questo programma. Ci vuole un pochino di tempo perché dobbiamo considerare che il file è un file musicale di mezz'ora e quindi per poterlo caricare sul programma ci vuole un pochino di tempo. Aspettiamo pazientemente e vedremo fra un po' comparire proprio l'immagine wave, cioè l'immagine dell'onda musicale che rappresenta questo brano musicale. Ecco, il file è pronto. Vediamo questa è l'immagine dell'onda musicale, noi la possiamo anche un pochino ingrandire usando questo strumento di ingrandimento che la dilata in modo da vedere meglio i punti di separazione fra un brano e l'altro. Se noi vogliamo ascoltare i brani possiamo cliccare su riproduci qui, la ascoltiamo e poiché l'abbiamo comunque già ascoltata precedentemente sappiamo che questa prima traccia musicale, io l'ho fatto già prima ascoltandola, perdendoci un po' di tempo ovviamente, che la prima traccia musicale termina in questo punto. Questo punto qui che io posso anche sempre comunque ingrandire per vederlo anche meglio è a circa 6 minuti e 45 dall'inizio del file musicale. Quindi pongo il mio cursore in questo punto, che è il punto in cui la prima traccia sfuma per passare nella seconda traccia e vado a modifica, seleziona, invece che selezionare tutte le tracce musicali, seleziono dal cursore a fine traccia, perché in questo caso la traccia che io voglio mantenere è la prima, tutto il resto lo voglio cancellare. Chiaramente le varie opzioni potranno essere usate a seconda di quale traccia io devo cancellare. Vado quindi dal cursore a fine traccia, come vedete questa è stata tutta evidenziata da qui alla fine di tutte e 30 minuti del brano, posso anche andarlo a vedere, non vado oltre ma comunque è stata evidenziata tutta la parte fino alla fine del brano, lo faccio vedere rapidamente spostando questa parte del cursore qui, ecco è stato selezionato tutto fino alla fine, questa è praticamente la fine della traccia, ora se avessi voluto selezionare questa avrei dovuto fare un'altra manovra, ma comunque sempre con il cursore puntato e cancella la parte che sta fra i due punti selezionati dal cursore. Per ora facciamo prima, abbiamo selezionato tutto il brano dalla prima traccia, eccola qui, che è restata non evidenziata, tutto il resto spingeremo il tasto cance del computer e ci verrà cancellata. Sempre non preoccupatevi perché se avete sbagliato qualcosa potete mettere annulla e quindi ritorna tutto come era all'origine. Fino a quando non avete salvato potete sempre fare annulla, annulla, e ritorna la situazione all'origine. Quindi cancelliamo tutta la parte che avevamo selezionato e a questo punto noi abbiamo l'unica traccia musicale che ci interessava, che inizia qui ovviamente e termina in questo punto. Ora questo programma consente di fare anche una serie di cose in più, degli effetti particolari, anche addirittura rallentare i tempi o accelerare i tempi di un brano musicale, fare degli effetti speciali eco. Io ovviamente vi invito casomai a guardare, a fare le vostre prove, a cercare di scoprire anche queste attività in più che il programma consente, ma certo è che in questo caso è utile fare una certa cosa. La cosa da fare è cercare di sistemare questa parte finale del brano musicale che non sfuma completamente a causa del taglio, perché il taglio che abbiamo fatto non era tale da determinare la completezza della fine del brano. Quindi dobbiamo attivare un particolare tipo di effetto che ci consenta di sfumare fino a zero il volume di questo pezzetto finale del brano musicale. Per fare questo noi con il tasto sinistro clicchiamo sul mouse e evidenziamo questa parte finale del brano. In questo modo abbiamo detto al programma che l'effetto che deve generare lo deve fare soltanto sulla parte terminale che abbiamo evidenziato. Quindi andiamo a vedere a effetti dissolvenza in uscita. La dissolvenza in uscita ci consente a questo punto, come potete vedere, di avere esattamente lo sfumare della musica a zero. La stessa dissolvenza noi potremo anche, tornando indietro, applicarla alla parte iniziale. Beh, diciamo che qui è già sfumato abbastanza bene, per cui in realtà non c'è nessun problema, però potremo applicare lo stesso concetto della sfumatura, però in questo caso iniziale, e quindi sottolineiamo e evidenziamo questo picco iniziale, andiamo ad effetti, dissolvenza in entrata, a questo punto mi inizia esattamente non di scatto. Queste sono piccole sottigliezze, poi chiaramente possiamo anche avere altri effetti, come potete vedere, cambiare il tempo, cambiare l'intonazione, moltissimi effetti, il riverbero, generare un silenzio in una parte della traccia, tutti questi effetti ovviamente si studiano e si imparano col tempo, usando il programma e fra virgolette giocandoci un po'. Adesso il nostro brano musicale è pronto per essere salvato e vi dico semplicemente che qui c'è un piccolo problema, perché essendo il programma free non salva il formato mp3, che è il formato che noi abbiamo usato scaricandolo da YouTube. Quindi questa onda che voi vedete qui è un formato mp3, quindi il problema è che la dovremo salvare nel formato che ci consente questo programma free. Il salvataggio deve essere fatto in questo modo, file, non salva progetto, nulla di questo perché il salva progetto significa che voi state salvando un progetto per poterlo poi riprendere in un secondo momento. Dovete usare esporta audio. Esporta audio a questo punto gli dobbiamo dare un nome, lo chiamiamo brano anni 80, per distinguerlo dal brano della durata di mezz'ora che abbiamo tagliato e vedete che in realtà il file in mp3 che noi avevamo non viene usato, viene salvato soltanto in forma wave, questo formato qui. se non dovesse capitare in questo formato, vi capita questa cosa qui, sappiate che voi dovete cambiare e mettere questo formato wave, perché se no vi dice che non viene supportato dal programma free. Se voi usate il programma a pagamento vi dà tutte le possibilità, ma siccome noi stiamo usando programmi non a pagamento, dobbiamo un attimo barcamenarci con qualche piccolo problema. Quindi il formato con cui salva è questo formato wave. diciamo salva, diamo ok qua sotto e a questo punto l'intero progetto viene salvato in formato wave e noi il nostro brano musicale lo ritroviamo, eccolo qui, sul nostro desktop brano anni 80 e lo potremo sentire tranquillamente con il nostro lettore musicale. Il problema del file wave si supera usando un convertitore online, cioè un convertitore che da wave vi porta in formato mp3, così come vi ho insegnato nelle lezioni precedenti. Grazie, alla prossima.